Centri di riferimento per la cura dei tumori che esistono e sono centri di eccellenza anche in Italia e al Meridione ed è importante anche per i pazienti conoscerli. E' emerso questo dall'ultimo appuntamento con il 38esimo congresso della Società Italiana di Chirurgia Oncologica che ha avuto come tema la qualità della cura in chirurgia oncologica standard e bisogni. Parliamo di questo progetto, Etodisico, sui centri di riferimento brevemente. Di cosa si tratta? Il progetto sufficiente di riferimento tratta semplicemente di un progetto che ha la Società Italiana di Chirurgia Oncologica relativa a fornire ai cittadini degli strumenti per individuare o permette ai medici dei cittadini di individuare con facilità i posti nei quali si può ottenere la migliore qualità di cura per certe malattie che non sono così frequenti dove spesso si incorre in errore o in incertezze su cosa fare e ci si rivolge per cultura o per sentito dire al migliore che in realtà non ha la migliore esperienza in quel tipo di problema. Quindi in buona fede a volte si possono compiere errore ma perché è necessario come per tutto avere informazioni che siano affidabili. Ed è un progetto lungo perché è un progetto che coinvolge i chirurghi, coinvolge i medici oncologi, coinvolge i radioterapisti ma coinvolge anche i medici della mutua, coinvolge anche gli stessi pazienti che devono poter in qualche modo sapere che hanno delle alternative, delle possibilità senza per questo essere costretti di migrare al nord fuori Italia o in posti particolari. Questo è un pochino il progetto riassunto molto velocemente anche se è un progetto complesso che richiederà del tempo, richiederà di confrontarsi con istituzione, per istituzione intendo ministero, regioni, però siamo una società nazionale, questo è un po' il nostro lavoro se vogliamo. Si cerca di creare una rete di centri di riferimento perché esistono in Italia certamente dei centri oncologici accreditati per le diverse patologie ma questo accreditamento non è un accreditamento strutturato. È importante ovviamente strutturarlo perché oggi come oggi è importante che i pazienti in qualche modo seguano delle direttive, seguano delle strade che in qualche modo sono segnate e nelle quali loro possano ricevere il miglior trattamento possibile. Per ottenere questo è importante che in qualche modo ci si muova nella direzione dell'identificazione di questi centri a cui il paziente sa di doversi rivolgere per poter ottenere la migliore cura possibile. Tanto più importante quanto più rara è la patologia di cui il paziente è affetto. Per patologie frequenti il livello di competenza medio dei grossi centri oncologici e dei grossi ospedali è comunque buono. Chiaramente per le patologie più rare il livello di competenza è frutto dell'abitudine e della frequenza con cui queste patologie vengono viste nei diversi centri. Quindi il paziente con patologia rara ha qualche problema in più nel trovare il suo riferimento. Ecco che quindi è molto importante che questi centri vengano identificati istituzionalmente e i pazienti possano a questi rivolgersi. L'obiettivo quindi è far rete per il cittadino e il paziente informarsi e facciamolo capire soprattutto centri di riferimento ci sono anche al sud. Centri di riferimento ci sono anche al sud. Il principio non è tanto trovare il centro migliore ma organizzare una rete informativa per cui anche i centri che non sono migliori possono contattare i centri migliori anche a distanza poter avere delle indicazioni sui migliori trattamenti quindi poter garantire al cittadino senza bisogno di viaggiare per mezza Italia il trattamento migliore. Poi se c'è la tecnologia particolare o la particolare esperienza o professionalità ci si muove ma ci si muove per un breve periodo per continuare poi vicino al proprio domicilio il trattamento più adeguato. Ci sono diversi centri di eccellenza in Italia sparsi abbastanza su tutto il territorio nazionale. Sicuramente ce ne sono a Napoli e in campagna in generale, ce ne sono in diverse regioni e quindi il viaggio della speranza chiaramente fatto senza un'indicazione specifica per un trattamento specifico non ha nessun senso. Noi che io lavoro a Milano riceviamo pazienti da tutta Italia e molto spesso li rimandiamo ai centri locali e regionali che sono assolutamente in grado di farsi carico del loro problema. è importante quindi rivolgersi a un centro di riferimento lontano dalla propria regione se esiste un problema specifico per il quale la propria regione non è in grado di affrontare. Questo in genere avrebbe la pena condividerlo con i medici che in qualche modo hanno in carico il paziente più che muoversi in autonomia prendendo la valigia e sostanzialmente facendo migliaia di chilometri senza un motivo reale. Per alcune patologie però questo motivo esiste e lo sono in particolare quelle rare. Ancora una volta sono i tumori rari quelli per cui ha senso muoversi. Per le patologie frequenti in particolare parliamo ovviamente di tumori. Ogni regione è dotata di centri di elevata qualità e certamente lo è anche la campagna. Attualmente qual è il problema più grande in questo campo? L'incertezza nel senso che di fronte a una diagnosi di tumore raro la prima cosa è che prima di capire che sia un tumore raro da quando ti viene a quando ti viene fatta una diagnosi possono passare anche dei mesi perché ci si passa il tempo a chiedere chi sei questa roba cosa si fa. La seconda è che spesso il tumore raro essendo raro quindi non comportandosi come le cose che conosciamo viene trattata come le cose che conosciamo e magari non è il trattamento giusto. E quindi il problema è il ritardo. L'altro problema sono i numeri nel senso che noi parliamo di tumori rari quindi sembra che la tipica cosa non capita a me, capita a lui. In realtà un quinto, cioè il 23% dei tumori diagnosticati ogni anno in Italia fanno parte della categoria di tumori rari, cioè tumori che non hanno un trattamento standard così forse ci capiamo anche su cosa significa tumore raro. Tumori che non hanno trattamenti standard che richiedono una particolare esperienza e capacità che non vuol dire capacità tecnica. Il miglior chirurgo della Terra può trattare male un tumore raro perché non lo tratta come è meglio che sia trattato per guarire. Ultima domanda alla luce di quanto ha detto, quindi quali dovrebbero essere gli step che deve effettuare un paziente, in questo caso il primo medico a cui il paziente si rivolge? Il primo step in un mondo ideale sarebbe poter avere uno strumento informativo, anche informatico su cui inserire i dati del paziente e il problema e avere una risposta dal centro di riferimento in rete che dice ti rivolgi qua, ti rivolgi là, questo è il trattamento migliore, puoi farlo lì, meglio che ti rivolgi da un'altra parte. Il cittadino dovrebbe conoscere questi strumenti e eventualmente senza problemi suggerirle al proprio medico perché non facciamo in questo modo, piuttosto che andare dallo specialista di fiducia che dovrebbe a sua volta usare lo stesso strumento. Questo non è un problema italiano, io non voglio dire che noi siamo sempre i peori perché è un problema un po' europeo, è un problema che sta anche affrontando l'Europa perché ha esattamente gli stessi problemi. Diciamo che la coscienza del problema è una coscienza che è stata presa da non più di dieci anni e quindi piano piano stiamo. Poi c'è ancora un problema velocissimo, l'altro problema di questi tumori è che a volte richiedono dei farmaci che vengono usati per altro. Allora la legge, in questo è molto rigida, la legge mi consente di usare un farmaco per il mal di pancia se il farmaco per il mal di pancia è utile per il mal di testa e io lo do posso non essere rimborsato perché lo sto usando in modo non giusto e quindi questo è un problema che va anche risolto. Le istituzioni cosa potrebbero fare in tal senso? Prendere atto di questo, derogare grazie alla consulenza degli esperti su queste regole cioè non liberi tutti perché se no chiunque prende qualche cosa ma comunque regolamentare questo particolare aspetto così come stanno andando incontro a una regolamentazione e le malattie rare che sono un altro problema ma che comunque rappresentano anche una buona fetta di popolazione globalmente considerata. Tiriamo un po' le somme, come è andata? Io credo che il bilancio sia positivo. Oggi abbiamo dimostrato che la collaborazione su una rete nazionale costituita da persone che si interessano specificamente alla patologia tumorale apre delle prospettive importanti. abbiamo la possibilità di dimostrare che non c'è necessità di muoversi dai propri siti, delle proprie città essere curati nelle strutture che sono centri di riferimento anche nelle regioni meridionali e questo in qualche modo viene certificato da una comunità scientifica che è costituita dalle stesse persone che spesso accolgono i pazienti nelle strutture del nord. La dimostrazione è che in Campania si fa una buona sanità c'è la possibilità di affrontare tutte le patologie con l'apertura mentale di chiedere la collaborazione dei specialisti che sono al nord nel momento in cui ci sono delle attività da chiarire degli sviluppi particolari che in qualche modo hanno necessità di una seconda opinione. Quindi è un problema culturale che noi dobbiamo affrontare che è quello di convincerci che possiamo far bene le cose le persone con tumore possono essere curate efficacemente nelle regioni del sud e questo viene un messaggio importante per tutti quanti. Rete e informazione quindi sono elementi importanti e imprescindibili non solo per i dottori ma soprattutto per i pazienti? In questo il vostro ruolo, quello dei media, è fondamentale. Spesso prima si aveva paura di affrontare la parola tumore in televisione, alla radio invece noi abbiamo necessità di parlarne perché questa è una malattia curabile e lo stesso parlarne in qualche modo esorgizza le problematiche che sono correlate che è la paura della morte, la paura della sofferenza. Quindi in qualche modo l'informazione passa attraverso non la minimizzazione del problema ma farci rendere conto che è una patologia che si cura. Ne parliamo, lo raccontiamo, dimostriamo la possibilità che questa cosa si può curare come abbiamo fatto stamattina, mostrando i numeri reali in qualche modo la gente si convince che questa è una patologia che può essere guarita.